Allora, siamo qui a Napoli, siamo in questo palazzo, incontriamo VasciTour. Esatto, io sono VasciTour, cominciamo per l'ostella, posizionamento giusto Cristina. Noi siamo qui in visita al Brugge di Vecchini, noi siamo appunto VasciTour e proponiamo il ritmo esteriziale a Napoli, posizionamento giusto Cristina, per l'ostamente nel Stato, che sono veramente stati visitati. Più alternativi al sito esterico sono Vincenzo e San Pessoa, e qui connessiamo di questo momento degli eseguori con gli abitanti locali, ultima ma non l'ultima, c'è il socialismo, quindi andiamo a andare direttamente a casa di Napoli. E' bellissimo, è bellissimo, è interessante, ora siamo, ora dove siamo qui in questo palazzo? Al palazzo dell'Espanillo, è un palazzo fisico di Barocco Nascolano, che è stato realizzato su progetti dell'architetto, ordinando tanto le progetti, diciamo, le problematiche di Barocco Nascolano, e qui non la farei alla musea di Toto, giusto? Si, io lo farei anche in un musea di Toto, qui per la provincia di Toto, qui per la provincia di Toto, qui per la provincia di Toto, la provincia della partita di Toto, a noi ci piace sempre ciao